Antonino! Buonasera a tutti! Ciao Michel! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Aspettare non è utile, cosa resti lì a guardare tra le ombre che lo so, confondono. Un sorriso manifesta al chimico, meglio ci vorreste addosso che lasciare che sia l'osso. E' un attimo... Che in fondo a queste storie rimane il senso più nostalgico. Questa leggerezza... E' un attimo... Bisceglia! E' un attimo... 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 Così speciale... Così speciale... Così speciale... Così... ... Così speciale... 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 E questa... C'era appena... Questa... I bigتم. questo pezzo perché perché sono pugliese perché sono sono bellissime sono bellissime davvero stasera ci sono vari sito voi siete bellissimi grazie dicevo tutti quanti che sei bellissimo insomma è anche bravissimo appena interpretato benissimo questa canzone è stato proprio bravo dicevo people people perché perché sono pugliese e da pugliese so perfettamente quanto è grande il cuore della gente della puglia la differenza la differenza la fate voi ecco perché grazie a tonino grazie a battiti la grazie grazie anche a te per essere venuto